ragazzi 18 agosto oggi dopo una lunga fila sono andato a fare il mio secondo vaccino moderna hanno fatto il moderna e sinceramente non ho avuto nessun problema né dopo la prima vaccinazione né dopo la seconda nonostante la mia venerà da età quindi io sinceramente non lo so se nelle prossime ore mi verrà la febbre se ne dicevo qualche malessere non lo so però mi sento già molto più tranquillo molto più sicuro perché penso proprio che un ospedale non ci finirò perché questo dice la scienza magari avrò prenderò il covit pure io in forma lieve non lo so ma sicuramente non vada a finì al cimitero quindi fate come vi pare la vaccinazione non è obbligatoria quindi finché la vaccinazione non è obbligatoria io non vi dirò mai per dovere vaccina perché sono scelte personali rispetto tutte le scelte io ho scelto sono affidato alla statistica ai numeri perché io guardo molto ai numeri e i numeri dicono che sostanzialmente adesso il 95 per cento delle possibilità in meno di prendere il covit veramente residuali di finire in ospedale questa è la storia poi ripeto fate come vi pare perché siete adulti e siete in grado di decidere finché le cose non sono obbligatorie non vi posso dire che vi dovete vaccinare allora oggi mi sono letto con attenzione quello che possiamo considerare il più importante giornale italiano almeno per numero di vendite di copie la gazzetta dello sport devo dire ragazzi che la gazzetta dello sport negli ultimi tempi lo dico non tanto per per criticare lo dico con una punta di tristezza ha fatto una bella calata bisogna dire la verità ha fatto una bella calata ho visto che anche diminuita la foliazione come dicono quelli bravi e sono un po di pagine meno ma ho l'impressione che i media stampati hanno preso troppe legnate negli ultimi anni da dal web e faticano faticano a reinventarsi perché una volta io mi andavo veramente a cercare gli editoriali della gazzetta dello sport di furio zara di enrica speroni gente che veramente hanno scrittori aggiunti proprio al a un quotidiano sportivo gente che veramente ti insegna anche a scrivere e a leggere e ti fa venire anche voglia di leggere adesso con questo fatto che la comunicazione è costante continua non si ferma mai arrivano continuamente informazioni nuovi nuove cioè tu magari hai fatto un video stai facendo un video dove parli bene della roma perché è una bella squadra e dopo un secondo arriva subito un sms un'ansa qualcosa e ti dice guarda che smolli che sei infortunato non gioca fino a settembre c'è un continuo non ci si ferma mai proprio e quindi tutto quello che hai detto fino a un minuto prima non va più bene la volta non era così le informazioni arrivavano ma arrivano ci mettevano più tempo per arrivare quindi c'era tutto un altro oggi il quotidiano esce già morto già vecchio le cose che leggi la mattina lì sul giornale metti il cellulare e dopo dieci minuti sono già giornali con delle novità e quindi tutto quello che hai letto sul giornale serve più a niente quindi è una tragedia io dico chiaramente la tragedia per i giornali le vendite come sapete sono calare tantissimo un euro e 50 costa oggi un quotidiano come la gazzetta dello sport mi sembra un prezzo tutto sommato potrebbe essere anche accessibile però ci fossero un po più di contenuti perché io ho l'impressione che il segreto a questo punto il momento è molto difficile cioè i quotidiani oggi possono sopravvivere solo grazie ai contributi statali al di fuori di questo non ci sono proprio vendite che possono consentire a un quotidiano di sopravvivere contributi statali ci sono e infatti sopravvivono ma è un sopravvivere ripeto giorno in cui si impazziscono in parlamento e dicono leviamo i contributi statali a tutti oppure li riduciamo all'osso con l'ascia proprio l'80 per cento della della stampa della carta stampata io penso che il segreto sia quello di col di per rilanciare un po sia quello di coinvolgere le 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 buone penne che ce ne sono tante anche se in italia non sono secondo me valorizzate a dovere le buone penne quelli che veramente ripeto facevo il nome parlando della gazzetta dello sport furio zara erica speroni candido cannavo gente che veramente sa scrivere bene sapeva scrivere bene coinvolgere gli scrittori coinvolgere gli autori coinvolgere gli artisti gente che deve dare un contributo non solo di qualità di scrittura ma proprio di esperienze esperienze di vita di visione aperta del mondo che ti dà quelle quel contributo che su facebook internet e compagnia bella non c'è perché non ci può essere perché la comunicazione del web è una comunicazione veloce sintetica immediata istintiva di pancia non c'è l'approfondimento non c'è lo spazio proprio per l'approfondimento perché l'articolo lungo non te lo leggi questa verità anche perché la maggior parte di quelli che si connettono oggi sul web lo fanno dal cellulare e quindi leggono dieci righe poi si rompono le scale così oggi è il mondo di facebook il mondo di facebook è un mondo dove 4 5 righe questo è il concetto e un altro commenta qualche 2 3 righe quando tu chiedi a uno di leggersi un libro come per esempio la sesta regina un bellissimo libro fantasy questo qua abbiamo parlato nei video precedenti di silvia fasce che sono 240 pagine il lettore medio ormai abituato a queste 3 4 righe non ce la fa psicologicamente capito perché corre dietro a tutti sti post però senza rendersi conto di che cosa che sto libro fra 40 anni sta ancora lì e in tante altre case tutti sti post e tutte ste foto che mettiamo su instagram ma perché lo facciamo pure io lo faccio perché è così cioè io puro ho appena postato la mia foto col cerotto e su instagram scrivendo ciao covi della te la pianta il culo cioè perché è così però a questo ci deve essere deve essere anche altro ci deve essere una curiosità per la lettura e fatto questo non devi perdere di vista cose molto più importanti di internet come i libri io quindi vi dico proprio chiaramente leggete vedete film viaggiate vivete in modo diciamo completo a 360 gradi non vi mettete col cervello sul cellulare perché vi rincoglionite solo però proprio ve lo dico non parliamo della televisione che praticamente è un dispensatore di cazzate autorizzato perché serve per tenere tranquilla gente che altrimenti darebbe di matto stai lì stanno lì tutto il giorno a vedere film va bene così allora ragazzetta dicevo ma proprio deluso oggi ma l'unica cosa buona so che perlomeno mi sono aggiornato un po di più sul diciamo le nuove squadre del campionato italiano che parte il giorno 22 agosto e quindi ci siamo oggi il 18 domani c'è tabbo sport roma di conference league gara andata la gara di ritorno al giorno mi pare 25 26 mi ricordo in questo momento va il 25 o vediamo un po vediamo un po è stato un calcio mercato drammatico l'aggettivo è drammatico non ci sono soldi c'è anche la sensazione che non ci siano molte idee mi aspettava un mercato molto più creativo ma le società sono tutte inguagliate perché questi due anni quasi di covip di mancati incassi hanno devastato hanno devastato il sistema caccia una società come il barcellona c'ha un perdite per 481 milioni mi pare l'inter ha dovuto praticamente vendere il suo pezzo forte lukaku al celsi perché qui hanno cacciato 115 milioni in contanti mi pare quindi il calcio italiano sotto questo punto di vista non sta assolutamente attraversando un buon momento e lo vedremo proprio dalle formazioni con tante squadre per esempio il napoli che non ci sono praticamente rinnovate adesso ha preso one jesus il napoli è il primo acquisto pensate un po che roba una società come il napoli comunque andiamo a fare un po una valutazione allora l'atalanta l'atalanta una ormai delle squadre più forti del nostro campionato sembra incredibile attualmente la squadra titolare agli ordini di gasperini sarebbe uammusso fra i pali l'ex giocatore dell'udinese toloi de miral e dimsiti nella difesa a tre maele deron froler gozenz e pessina dietro malinowski e duvan zapata che quindi pare che non andrà all'inter come sembrava sarà gecko a dover sopportare sulle sue spalle e sulle sue lunghe leve il peso dell'attacco della squadra campione d'italia di non far rimpiangere romelu lukaku ma non sarà assolutamente facile poi il bologna il bologna che appena stato eliminato clamorosamente in casa dalla ternana il bologna di mihajlovic presenterà skorupki ex roma tomiatu bonifazi sumarò dix scouten swamberg orsolini soriano barro e la prima punta è marco arnautovic giocatore austriaco che segna segnato anche all'italia nella gane nei campionati europei e che ha anche segnato contro la ternana appunto in questo clamoroso 45 interno che ha sancito l'eliminazione della sua rafelsina dal primo turno di coppa italia il presidente saputo incazzatissimo sta arrivando dall'america per cacciare la squadra come si fa andare 1 5 contro la squadra che è una neo promossa dalla serie c rimane un mistero cagliari cagliari cragno fra i pali valucchievic godin carboni zappa marine strotman de iola d'albert giovano petro e pavoletti l'allenatore sarà semplici che ha fatto bene l'ultima parte della stagione quando ha subentrato a di francesco mi sembra la squadra che andrà migliorata poi starà facendo inter inter campione d'italia conferma andanovic fra i pali scrini a devrai bastoni dunfries barella brodovic l'ex milanista cialanoglu e pericic gioco e lautaro martinez riuscirà l'inter a sopperire alla perdita di un pezzo da 90 come lukaku il problema non sarà solo sostituire lukaku tutto sommato gioco anche da delle caratteristiche molto diverse ce la potrebbe anche fare il vero problema sarà sostituire akimi che secondo me tatticamente è stato un giocatore fondamentale nel nella vittoria dell'ultimo scudetto perché è quello che ha allargato il gioco in sostanza sia in ampiazza che lo ha reso più incisivo andando poi anche sul fondo a crossare ci sono un paio di partite proprio che l'inter ha risolto con un'azione sulla fascia di akimi che ha messo al centro e darmian ha bloccato accompagnando la palla in porta juventus allora cesni quadrato bonucci de league alexandro bentancourt locatelli rabbio chiesa dibala ronaldo l'allenatore come sapete allegri sono contento per locatelli perché è un giocatore italiano che ha vinto gli europei ha fatto anche bene un giocatore viene dal milan nel sassuolo è andato abbastanza bene non benissimo ma è nazionale invece abbiamo visto un giocatore effettivamente è piaciuto tanto speriamo speriamo che possa fare bene c'è anche un fisico importante la juve parte diciamo la verità coi favori del pronostico la lazio di sarri reina maruzic luiz felipe acerbi e isai milinkovic leiva luiz alberto felipe anderson immobile e correa torna quindi felipe anderson a lazio sarebbe su pedro su romanista petro è una notizia che è in attesa di conferme secondo me la lazio squadra che sappiamo non è che ci abbia voluto questi soldi da spendere negli anni ha sbagliato a non vendere milinkovic savage perché milinkovic savage c'è stato un momento che valeva veramente tanto mi pare che lo volesse la juve credo che dopo qualche anno che lo avevi alla lazio era il momento di concretizzare di mettersi un po di fieno in cascina diciamo un po di legna per l'inverno e ha preso sarri tutto sommato aveva bisogno anche di tempo per siamo un po felipe anderson immobile correa teoricamente vorrebbe anche andare bene abbiamo però bisogno di tempo sarri per far capire quelli che sono i suoi il tuo tipo il suo gioco diciamo ma poi c'è la salernitana la neopronosa salernitana che andrà ad affrontare il campionato con belec johnberg strand berg bogdan questa è la difesa una difesa praticamente che faccio il segno della croce prima di scendere in campo è poco c'è crida culibali di tacchio obi ruggeri questo centrocampo e davanti simi del crotone bonazzoli ex andoria me ricorda tanto il crotone questa squadra c'è una squadra che aveva una difesa completamente improponibile la serie a e ho l'impressione che il primo anno di serie a per la salernitana non finirà molto bene mi spero di sbagliare per gli amici di salerno sassuolo allenatore la salernitana è castori l'allenatore sassuolo è dionisi quindi de zerbi è andato allo sciacca di donne che è arrivato dionisi consigli fra i pali muldur ferrari kiriches e rogerio in mezzo al campo obianga locatelli non può essere locatelli locatelli qui c'è un errore andata la juve quindi c'è un grosso errore della gazzetta allo sport errori imperdonabili mi metti locatelli contemporaneamente nella juve e nel stassuolo se già andiamo male poi berardi a destra bogat a sinistra diurici e caputo caputo che tutto sommato chissà forse potrà anche partecipare alla spedizione azzurra agli europei mancini ha puntato con molta decisione forse troppa su ciro immobili è andata molto bene lo spezia dell'allenatore tiago motta che ricorderete tutti ex giocatore dell'inter affronterà il campionato con zoet nicolau erlich ristoff ferrer maggiore covalenco e amian questo è il centrocampo l'attacco è verde marazz e collei questa è un'altra squadra che io vedo malissimo a leggere la formazione poi vedremo l'anno scotta andrà molto bene lo spezia ma i giocatori mi sembrano piuttosto diversi sono almeno sei giocatori nuovi quindi un'impressione non lo so torino milinkovic savage fra i pali che è il fratello del milinkovic laziale ito bremer buongiorno non sarà mai buongiorno un po valente singo mandragora luci sanzaldi sanabia piaca e belotti prima punta torino esordisce con l'atalanta al a torino dalla gara de sodio ma un grosso vantaggio la squadra di juric che adalanta sarà prima di cinque uomini cinque elementi anche importanti potrebbe essere questo un vantaggio tutto sommato un pareggio devo andare a vedere la quota ci potrebbe anche stare allora viste le riflessioni importanti della dalla banca anche zapata mi pare che non giocherà allora empoli l'empoli è guidato da andrea soli vicario in porta stoiano vicero magnoli luperto marchiccia ricci stulac zurkowski bairami mancuso e club e cutrone andrea soli per un breve periodo anche sulla macchina della roma con la quale purtroppo ha perso la finale della coppa italia o la lazio purtroppo e contro la lazio e ben ricordi alla finale che dava anche un posto in europa e non lo so io ma buon andrea soli se inventi qualcosa perché sta squadra ve lo trovo male comunque vedremo la ne ho promossa l'empoli è una squadra che da una vita fa questo su e giù la serie a serie b devo bere qualcosa per non ce la faccio più alla salute non è non è vino immaginate ma è mela verde mi devo ritrovare un po perché la temperatura mai aggiunto livelli allora tempo lì sono proprio male allora la fiorentina di italiano che tanto bene ha fatto con lo spezia dragoschi drombrowski come si dice in porta io continuo sempre a dire dragoschi il polacco è una lingua che c'è una pronuncia tutta sua abbiamo imparato proprio seguendo il calcio in questi anni piate che ricordate piate che uno che sembra dovesse spaccare il mondo si abbiamo imparato che si legge pionte i dragoschi si legge drombrowski ma ragazzi io vorrei italiani da un posto i nomi perché già faccio fatica a pronunciarli in italiano lirola a destra a birachi a sinistra milenkovich pezzella sono i due centrali buonaventura pulgar castrovilli gonzalez vlaovic e sottil vlaovic uomo mercato richiesto da un sacco di squadre a un certo punto pareva che potesse interessare anche alla roma vediamo vediamo la fiorentina la vedremo subito all'esordio allo stadio olimpico il 22 agosto ci faremo subito un'idea mi sembra la squadra piuttosto rognosa gonzalez arriva dallo stoccard da nico gonzalez 23 milioni più 4 di bonus che dovrebbe essere anche buono poi c'è il genoa di ballardini che ha cambiato una valanga di giocatori c'è un ragazzino molto giovane si chiama callonna che ha segnato il voto della vittoria in coppa italia contro 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 l'alessandria mi pare no non è all'alessandria è un'altra squadra il perugia mi pare e ma c'è che gol che ha fatto non è il primo ragazzo molto giovane molto interessante che parte la testa ma calcia di sinistro in un modo molto molto interessante allora il genoa col 352 di ballardini con sirico in porta vaneudsen vasquez crescito ma dov'ai questa difesa mamma mia sabelli che è un ecchi giocatore della prima della roma trovata anche nel bari mi ricordo ci credevo in sabelli infatti come comunque vediamo che sanceria insomma genova anche una città importante sabelli sturaro badeli hernani cambiasso da non confondere con cambiasso centrocampo ma destro e e cubana e cubana che venga dal trabbo proprio cubano e dal trabbo un po due milioni costato squadra tutta la capi e tutta da decifrare come avete visto da questa prima carellata non è che sarà proprio un campionato con un livello tecnico di rifletto no della crisi economica non aspettatevi di vedere chissà che cosa allora milan confermato pioli magnan importa preso dal lilla è costato 13 milioni calabria chi ha er tomori hernandez ben nascere che si a destra se le maker a sinistra anterebici brahim diaz dietro la prima punta che sarà giro in attesa di braimovic e poi passeranno molto probabilmente al 4 42 forse dietro al 4 due punte 4 4 3 2 1 4 3 2 1 forse con giro prima punta magari brahim usci un po dietro ma vedremo un po cosa si inventerà pioli napoli è un'altra squadra dalla quale io mi aspetto tanto quest'anno che spalletti lo considero comunque un ottimo allenatore napoli ha confermato tutti meretta di lorenzo manolas culibali mario rui e la difesa fabian ruiz lo vodka gininski al centrocampo politano o di men e infine se non avrà infortuni conoscendo il gioco di spalletti non giova anche molto concreto io penso che potranno fare molto bene qualche acquisto ce l'aspettavamo e se io ho one jesus così per fare numero ma evidentemente spalletti crede in one jesus ma il giocatore non si è mai capito bene quale sia il suo vero valore effettivamente siamo arrivati alla roma di murigno rui patricio cardos mancini smolling che si è infortunato diciamo i bagni vigna pigna sinistra in attesa di spinazzola avere tu cristante zaniolo pellegrini mkhitaryan e tamai tammi abram tammi e abram abramo insomma per capisci abbiamo tutti già ribattezzato abramo e abramo lo chiameremo che così facciamo anche prima sam doria audero fra i pali l'allenatore è da verta con il 4 231 dovrebbe giocare da verta ex parma berefinski yoshida collei augello con tosby e silva centrocampo a destra candreva a sinistra damsgar gabbiadini si muoverà dietro la prima punta l'immarcescibile l'intramontabile l'imprendibile e l'imprevedibile fabio qualiarella giocatore avrebbe meritato tanto tanto di più nella sua carriera un ottimo giocatore udinese udinese sempre con gotti silvestri in porta becao nuiting samir molina vola sperera strighe lassen è un autentico scioglilingua legge la formazione vedete de lofeu pussetto e okata insomma ragazzi c'è di meglio e c'è di meglio udinese 3421 e lo dirà contro la juve al friuli e credo proprio che esordirà con una bella sconfitta venezia il venezia allenato da zanetti l'allenatore non so nulla come sembra cristiano zanetti l'ex giocatore assolutamente 433 venezia proprio missioni impossibile quest'anno mempa in porta non ho la più pallida idea di chi sia e buei caldara ceccaroni smeg questo proprio non si può lei crnicoi crnicoi per e i mans mannaggia miseria elevamo ma ritorniamo alle squadre italiane ma come dobbiamo fare mannaggia a ramo forte johnson mi pare un gran casino sta squadra che dio d'aiuti perché veramente ho l'impressione che venezia aveva bei problemi a salvarci ma proprio bei problemi allora verona verona allenato da eusebio di francesco si dà ancora credito a eusebio di francesco l'anno scotto nel cagliari non è che sia andato molto bene montipò in porta ex benevento ceccherini gunter magnani faraonita mezzo e veloso l'azzovic barak zaccagni e nicola kalinic insomma non è che mi convinca molto sta squadra diciamo la verità diciamo la verità preso dei giocatori che però non vengono schierati per i titolari preso fra botta dalla juve in prestito ilic dalla city pagato 7,5 milioni emperer dal palmeiras ma non non li vedo però in squadra titolare vediamo un po' esempio di francesco una natura che sta cercando un rilancio dopo qualche anno sicuramente non all'altezza di quello che va e ha riuscito a fare non si sa quasi come con la roma portandola in semifinale di champion quindi queste saranno le 20 squadre impegnate nel tentativo insomma di conquistare lo scudetto qualificarsi nelle coppe salvarsi soprattutto e mantenere saldo naturalmente il rapporto con i propri tifosi credo che la juve mi pare che abbia qualcosa in più delle altre quest'anno ma è tutto è tutto è tutto da vedere tutto da capire perché è chiaro che con il calcio mercato moderno magari a gennaio qualche squadra con un pa 3 4 giocatori forti bisogna vedere che cosa succede la roma la grande outsider è chiaro che la grande outsider attenzione anche al napoli che una squadra che ripeto secondo me è un buon allenatore e da tanti anni giocano sempre insieme se i giocatori avere culibali e manolassi nella centrale di difesa secondo me non è poco e anche osimeno un giocatore che considero molto perché anche giovane un giocatore che mi sembra atleticamente veramente una bestia e poi niente le milanesi l'atalanta sono queste le squadre che gran sorpresone sarebbe la lazio se potesse metabolizzare in fretta il gioco molto fatto sul possesso palla di gioco di prima di sarri ma il gioco di sarri vi ripeto ha bisogno di perlomeno di 7 8 partite per essere metabolizzato l'abbiamo visto un po dappertutto dove è andato poi una volta che entra nelle corde nelle teste dei giocatori diventa un gioco altamente spettacolare come si è visto anche a napoli il napoli di sarri è una squadra in quel momento giocava uno dei calcio un calcio tra i più belli d'europa non ho nessun problema a dirlo mancato qualche quel qualcosina a livello tecnico il giocatore che poi fa la differenza è una squadra la porta avanti poi anche nelle coppie magari fa vincere anche lo scudetto quel tipo di giocatore lì al napoli di sarri indubbiamente e anche al napoli in generale degli ultimi anni è una squadra che spesso sta dai vertici ma poi non è riuscita a vincere quello che si cercava veramente di vincere allora ho finito buon campionato a tutti spero che la panoramica insomma vi abbia un po chiarito com'è la situazione e ci sentiamo nei prossimi giorni arrivederci